Sei un DJ? Sei un vocalist? Sei un live performer? Realizza il tuo videoclip in alta definizione con JazzEye Communication, dove tu sei il protagonista. Potrai registrarlo in studio cinematografico, durante una tua esibizione live o in ambienti esterni. Per info e costi, chiamaci al 338 10 10 810. Condividi la tua immagine sul web.